Offriamo al cliente la soluzione migliore del momento. Fema. Oltre 40 anni di esperienza e professionalità nella lavorazione industriale di metallo, legno e derivati. Per la lavorazione del metallo fornisce la linea a professionisti. Per quella del legno fornisce la linea per obbisti e professionisti in pianti di aspirazione segature, truccioli e gas di scarico. Punto di riferimento per l'industria, l'azienda offre anche sistemi completi per l'approvvigionamento di aria compressa nei processi di produzione e trasformazione. Servizio di vendita al dettaglio, oltre ad una vasta copertura del territorio calabro-lucano, mediante rappresentanti di zona. Grazie per la visione!